L'altro, lo dico di passaggio, sarebbe un tema molto interessante da approfondire, riflettere su Gramsci e provare a ereditarne il messaggio può anche essere utile in qualche modo per interrogarsi su un tema che è divenuto centrale nella discussione odierna, penso ad esempio agli sviluppi che ha ricevuto con Roberto Esposito, il tema legato all'Italian Theory, cioè vi sia un'essenza del pensiero italiano. Nel noto libro Pensiero Vivente Esposito sostiene essere la categoria di vita quella fondativa del pensiero italiano. Io credo che si possa determinare questa categoria più precisamente come storia e come conflitto. Il pensiero italiano, fin dal suo gesto originario, è pensiero del conflitto e della storicità. Penso a Gioacchino da Fiore e a Macchiavelli, ad esempio. Penso a Gian Battista Vico e allo stesso Gramsci, appunto. E' pensiero nel conflitto e nella storicità. E' pensiero che restituisce il senso dei traumi dell'esperienza storica. E questo vale a maggior ragione anche per Gramsci, credo. La storia come conflitto, la storia come luogo in cui gli uomini combattono e cercano di migliorare se stessi, come recitava la lettera che prima ho letto indirizzata al figlio Delio. E in questo senso studiare Gramsci può anche aiutare, per chi abbia interesse in questo campo, a chiarire quale sia, se vi sia, un'essenza della filosofia italiana, del pensiero italiano. E dunque, qual è l'attualità di Gramsci oggi? Che senso ha ereditare Gramsci? La nostra, lo dicevo poc'anzi, è un'epoca che sotto più profili sembra essere strutturalmente anti-gramsciana. Sembra che abbia totalmente condannato Gramsci all'oblio, che l'abbia rimosso, che sia passata in qualche modo da una Gramsci-latria, connessa anche alla Marx-latria degli anni 60 e 70, a una improvvisa Gramsci-fobia, a una condanna definitiva di Gramsci all'oblio. Per questo io ho dato conto nel libro anche di quello che a tutta prima sembrerebbe solo un aneddoto, e che invece credo possa aiutarci a comprendere la situazione dell'oblio di Gramsci, di cui stavo dicendo, ed è la vicenda dell'hotel Gramsci, come l'ho definita. Perché a Torino, la città in cui Gramsci, come dicevo, operò, in cui si formò, in cui acquisì coscienza del conflitto, in cui cercò di creare un movimento operai, organizzato, secondo quello che poi sarebbe rimasto, si badi, il grande tema di tutta la sua riflessione anche carceraria, come trasformare il proletariato in soggetto cosciente e organizzato. Ecco, come far passare, diremmo in termini egheliani, il proletariato da classe in sé a classe per sé, cioè consapevole del proprio ruolo e della propria posizione all'interno del conflitto. Ebbene, nella città in cui Gramsci acquisì coscienza del conflitto, Torino, la città dove abitò, nella casa che fu quella in cui abitò Gramsci, è stato costruito oggi un hotel, un hotel che per ironia della storia è stato chiamato Hotel Gramsci, è un hotel a cinque stelle, in cui per ironia della storia voglio ripetere l'idea gramsciana della città futura, di una felicità condivisa più grande rispetto a quella disponibile, la felicità per gli ultimi uomini potremmo dire, la felicità mercificata del mercato, la felicità delle api di Mandeville, dove ciascuno mira solo al proprio interesse egoistico. Ebbene, questo sogno di fuga da questa felicità alienata si è riconvertito in un nuovo tipo di felicità, la felicità come percorso di benessere individuale, la felicità come agio all'interno del grande hotel. E questo è, io credo, rivelativo del ruolo che oggi il nostro tempo sembra assegnare a Gramsci, laddove appunto Gramsci viene o trasformato in un'icona alla stregua del Che Guevara sulle magliette, e quindi reso inoffensivo, reso icona interna al paradigma del mercato che tutto assorbe e assimila, oppure viene, appunto come nel caso dell'hotel Gramsci, offeso e umiliato. Potremmo parlare in coerenza con quanto Gramsci diceva del doppio carcere, potremmo parlare di una doppia uccisione, l'uccisione reale operata dal fascismo, e poi l'uccisione simbolica venuta dopo, come l'unità quotidiana fondata.